buongiorno è un grande piacere ovviamente averti qui è partito questo nuovo progetto intanto come mai è partito proprio ora questo nuovo progetto vuoi che ci sia stato di mezzo il lockdown quindi ha permesso a tutti di pensare alla propria vita ripensare un po rimettersi in moto rimettersi in sesto sono tante le motivazioni io sono sempre stato per 25 anni fedelissimo alla musica dei gemelli diversi e lo sono tuttora però sai quando arrivi a un certo punto della tua vita hai anche bisogno di esprimere delle tue cose personali o solo per il gusto di fare musica da solo con altre persone con un team quindi è la mia volontà la mia età diciamo che non mi voglio privare di nulla e voglio voglio tentare tutto quello che che mi sento di fare e quindi ho deciso di buttare fuori buttare fuori delle canzoni mie fatte da me dal mio team ripeto tutto è iniziato poco prima del lockdown e basta poi appunto comprici al lockdown e io ho avuto tempo per mettermi per mettermi in studio in questo studiolo che mi sono costruito di mettermi qui a a fare tutte le mie a tutte soliste e mi sono mi sono lanciato grazie anche ad alta fonte che mi ha mi ha accolto adesso è uscito per uno single è vero è vero anche perché poi perché è molto appezionato ai gemelli diversi è bello scoprire poi ciò che c'è stato prima perché questo brano racconta un po ciò che è stato prima sì questo brano allora questo brano non doveva essere il primo il primo singolo e in realtà era un brano che avevamo scritto ma rimaneva un po lì poi però mi sono detto quale modo migliore di iniziare un progetto solista raccontando la mia storia che già in tanti conoscono però mi sarebbe piaciuto veramente metterla anche in immagini no e quindi è venuto fuori questo quest'idea fino in cima che appunto racconta la storia di un ragazzo che che sono io ma che sono là fuori che sono in tantissimi è vero è vero e che che combatte che combatte per per la sua passione che combatte per riuscire a portare la sua passione fino fino in cima e cosa fa lavora di giorno in fabbrica esce dalla fabbrica torna a casa si mette a suonare di notte la mattina dopo si risveglia torna in fabbrica la sera vede i suoi amici ascoltano musica poi torna a casa suona di nuovo e va a dormire tardi si risveglia va in fabbrica ed è una routine che crea anni e dura anni e finché un momento succede qualcosa e la cala vita ti può cambiare quindi bisogna crederci fino fino in fondo io ho sempre pensato che questo pezzo sia una grande motivazione per verso per tutti i ragazzi che appunto combattono ogni giorno e lottano ogni giorno per riuscire a a fare quello che vogliono nella vita magari a cambiare la loro situazione perché ti dico lavorare in fabbrica io ci ho lavorato anni ed è un lavoro è un lavoro come un altro cioè tutti i lavori sono nobili e non si può poi soprattutto detto da me non si può dire che fabbrica brutto rispetto diversi però che tu hai la situazione per un'altra cosa è chiaro che ti sta stretto quel tipo di lavoro e cerchi di cambiare la tua cerchi di cambiare la tua la tua situazione ora ripeto ho fatto un video che ha delle connotazioni molto anni 80 molto anni 90 scusa anche nel mio look è piaciuto è piaciuto molto è un video molto real come dico io molto vero non volevo fronzoli non volevo chissà che artifici di video di cose volevo solo una bella fotografia e una storia da raccontare e che fosse credibile sicuramente credibile lo è perché la mia storia sono e sono molto contento sono molto contento perché appunto è il primo brano di questo di questo mio progetto di questo mio lungo cammino che spero sia pieno di soddisfazioni e mi ha dato tante soddisfazioni perché tanta gente l'ascoltate tanta gente mi ha detto è molto molto bello complimenti vero vero anche perché poi il video è curato nei minimi particolari anche come il cd come si usava una volta che si scriveva sul cd il nome o magari le registrazioni che un po si facevano le playlist quindi è molto apprezzabile anche la creazione del video nei minimi particolari sì guarda con l'aiuto di un di un bravissimo regista giovane che si chiama Rudy abbiamo abbiamo fatto questo video con un con un'idea che è partita da me ma è stata poi condita chiaramente da lui e dal suo team la mia idea era quella di di dare l'idea di routine ok della routine della routine impesante e qual è meglio qual'idea migliore di una della routine se non quella del del film il giorno della marmotta che è quello che racconta di una giornata che è sempre uguale no è sempre uguale fino a che succede qualcosa che ti fa cambiare poi il tempo prosegue normalmente ed esci da quel loop temporale che si era creato il loop temporale è svegliarsi la mattina io che schiaccio la sveglia che vado a lavorare che bla 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 che esco torno vado e prendo la mia macchina che oltretutto è una panda e io avevo una pandina veramente nel nel 90 dove una panda andavo a lavorare con quella e finché succede qualcosa nel video ascolto cd scrivo ascolto cd insieme ai miei amici del pezzo e dopo averlo ascoltato i miei amici mi danno un feedback positivo e cosa succede il giorno dopo mi infilo il giubbotto spaghetti funk perché in realtà perché in realtà il primo obiettivo che ho avuto che ho raggiunto è stato entrare nella spaghetti funk e poi dopo la spaghetti funk si sono formati gemelli diversi ma prima siamo entrati tutti spaghetti funk e poi lì dentro ci siamo uniti come come gruppo gemelli diversi quindi è real anche in quello perché fino in cima secondo me non è raggiungere la vetta assoluta non esiste una vetta assoluta vita che puoi raggiungere ti puoi fermare anche a uno di quelli intermedi non c'è bisogno di arrivare in cima dipende dalla tua ambizione dipende da quello che vuoi fare non tutti siamo uguali quindi per me nel video ringrazio molto oltretutto ho avuto anche il permesso d'ax di usare il giubbotto spaghetti funk nonostante io sia membro ma bisogna sempre chiedere al fondatore il premesso quindi gemelli dax sì anche perché poi questo brano vuole lanciare un bellissimo messaggio cioè con determinazione si può raggiungere comunque il proprio sogno quindi anche questo per me è molto importante perché molti appunto come detto vivono queste situazioni che comunque per pagare i propri sogni deve lavorare quindi così è successo così è successo io ho dovuto lavorare sodo per riuscire a pagare la strumentazione per fare musica poi ti dico la determinazione è fondamentale la prima cosa la bisogna essere consistenti in quello che si fa giorno dopo giorno ronaldo ronaldo docet ronaldo insieme bisogna essere sempre sempre consistenti in quello che si fa poi ti dico alessandro bisogna avere anche una minima di fortuna perché uno può essere determinato tutta la vita magari non succede niente bisogna che in quel momento succeda qualcosa di importante che ti che ti cambi che ti cambi la vita però nonostante ci voglia la determinazione la fortuna la fortuna è anche guidato un po dal tuo stato d'animo perché se tu sei una persona positiva e attiri energia positiva è chiaro che tante belle cose ti succederanno ma se sei una persona che non ci crede negativa che non che 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 sempre è cappata nella nella negatività nella nella depressione è chiaro che poche cose belle succedono quindi determinazione fortuna ma soprattutto anche energia positiva appunto solarità positività e tutto quello che ne consegue ma arrivare in cima appunto come il brano era più facile allora ora perché ovviamente adesso con l'avvento dei social quindi è tutto un po più facile però magari essendo molto più facile si perdono dei brani in mezzo a tanti altri ma secondo me la secondo me la bravura e il talento vengono riconosciuti in ogni epoca è chiaro che adesso la musica è più anacquata perché c'è tantissima roba tutti fanno dischi anche il mio vicino di casa fa il disco basta avere un computer ed è legittimo che tutti facciano quello che vogliono e non sto dicendo di no però è chiaro che poi ne consegue che la qualità magari perde un po no perché c'è tanta tanta roba e tanta tanta roba rimane là sotto in una qualità mediocre però le robe belle sicuramente vengono fuori e le cose belle sono sempre premiate a parere mio perché comunque è chiaro che poi anche lì c'è da dire che i tempi cambiano la musica cambia i personaggi giovani sono tenuti più in considerazione degli altri perché è giusto così anche noi ai nostri tempi eravamo giovani e chiaramente siamo stati tenuti in considerazione magari rispetto ad altre band che erano un po più datate questo è normale i tempi cambiano la il segno dei tempi che cambiano quindi va bene però ripeto il talento secondo me viene sempre premiato ai nostri tempi forse era un po più difficile di riuscire a mettersi in mostra ecco quello quello sicuramente sì perché non c'erano i social non c'era c'era tutta questa eh viralità ecco no nelle nelle cose che facevi c'era chiaramente però mtv c'erano il festival bar c'erano tutte le televisioni che ai tempi erano un po come youtube adesso come i social adesso perché erano di grande di grande diciamo diffusione e quindi diciamo che un po i tempi nonostante siano diversi totalmente diversi un po si equilibrano e adesso chiaramente è molto più molto più facile mettersi mettersi in mostra ma infatti questo nuovo progetto si è dovuto adattare ai tempi moderni o comunque voluto lasciare il vecchio stampo quindi anche dar cura al videoclip che ormai non tutti seguono comunque pubblicano videoclip fatto bene perché prima si faceva il video proprio nei minimi dettagli perché usciva su mtv ed era già un traguardo grandioso oggi videoclip diciamo non ha più l'importanza forse di allora adesso ci sono ci sono i visual adesso li chiamano visual che sono dei piccoli video che vanno in loop e ma sai io arrivo io arrivo da quel mondo lì arrivo dal mondo dei videoclip è chiaro che i videoclip che andrò a fare adesso non sono dei videoclip costosissimi sono dei video dei videoclip a budget ridotto ma quello che voglio trasmettere io non è tanto il costo del videoclip è l'ostentazione del costo del videoclip per far venire fuori un videoclip con le astronavi voglio appunto mantenere un un profilo real molto vero quindi secondo me il video deve trasmettere quelle motivi quell'emozione quelle quelle quello che c'è dentro la canzone no quindi non c'è bisogno di spendere chissà quanti soldi per fare un videoclip l'importante avere una bella idea che rappresenti che rappresenti bene la canzone e basta poi è chiaro che artisti di serie a di oggi hanno grandi budget e riescono a fare i video che vogliono loro noi li abbiamo fatti ai nostri tempi di video costosissimi quindi quello che dovevo fare l'ho già fatto adesso sono molto ridimensionato e voglio trasmettere appunto il mio progetto in una maniera molto diversa ma guarda che bellissimo il videoclip no 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 il videoclip è molto bello ma il videoclip la bellezza di un videoclip alle non si non si giudica solo dal costo dalla fotografia si 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 giudica anche per l'idea per la per la credibilità del videoclip ma per le immagini che ne so il videoclip di fin in cima è molto bello perché ha quel sapore anni 90 no a quelle vibes anni 90 quindi è bello è bello per quello che sa raccontare appunto la storia che vuoi trasmettere quindi assolutamente sì ho voluto trasmettere appunto come come dicevo questa storia perché è una storia che rappresenta tantissimi ragazzi ed è una secondo me una spinta per tantissime persone e svela di me un lato che non tutti conoscevano quello di un ragazzo che ha fatto tanta fatica prima di venire fuori e che un giorno ha incontrato il suo ex socio grido e insieme hanno cominciato a fare musica da fratelli e l'hanno portata e sono riuscita a portarla fino in cima anche con l'aiuto di altre due di altre due persone anche perché poi in questo brano c'è una collaborazione allora molti magari si aspettavano una collaborazione di un tuo socio quindi a questo punto perché poi hai scelto un'altra persona che ti accompagnasse in questo brano ma perché perché il mio progetto solista è il mio progetto solista se fosse se ci fosse stato tema nel brano sarebbe stato un brano dei gemelli diversi ok ho voluto separare le cose ho voluto separare le cose ma non tanto per dire voglio separarle perché non mi interessa quello io sono tuttora il cantante dei gemelli diversi e stiamo in pieno lavoro però questo doveva essere un progetto mio è giusto ed è un progetto che ho cercato di mantenere fin dall'inizio molto legato alle figure dei giovani c'è un concept dietro il mio progetto solista e te lo svelo in questo momento della mia vita della mia carriera la mia missione è dare qualcosa ai giovani ai giovani artisti ok le mie le mie esperienze musicali le mie esperienze di vita le voglio mettere in condivisione con ragazzi giovani ok con ragazzi che stanno iniziando a fare musica che hanno già iniziato che sono già magari a un buon livello voglio aiutarli a venire fuori in qualche modo ok io do loro una grande esperienza musicale una grande esperienza di vita e da loro ricevo la musicalità nuova ok il modo di fare musica in una maniera moderna riuscire a stare con i piedi in un mondo musicale nuovo e non che chiaramente non mi appartiene di nascita ma lo sto conoscendo piano piano e quindi questa è la questa è la mia missione di fondo infatti mi sono costruito un team di ragazzi bravissimi talentuosissimi con i quali una grande empatia sia musicale che proprio emotiva e sono molto molto felice il primo singolo vede la presenza di vede la presenza di saquan che un che un giovane rapper di verona molto bravo e che ho conosciuto mi ha confessato anche lui di essere stato e di essere un nostro fan di essere cresciuto con la mia musica con la mia voce e tutto e io sono stato molto molto felice di averlo di averlo nel brano è bellissima questa idea perché comunque non tutti seguono questo tuo filone quindi apprezziamo molto questa idea quindi magari aiuti ai giovani a fare quel salto che non riescono appunto se non altro cerco di se non altro cerco di dargli degli strumenti è la mia esperienza poi chiaro che non posso portarli dove vorrebbero essere loro ma io cerco di supportarli sia emotivamente sia a livello proprio di motivazione a fare una grande esperienza esatto a fare una grande esperienza sai viviamo in un mondo egoista dove ognuno pensa a se ognuno pensa a se stesso ognuno pensa ad arrivare lì sempre poi a scapito degli altri gente che si frega gente che si non dico parolacce gente che si frega gente che fa l'artifizio per cercare di fregare le altre persone guarda del peggio del peggio siccome io grazie a dio ringrazio sempre il cielo per avermi dato una una grande carriera musicale una grande vita adesso una bellissima famiglia ho avuto tanto dalla vita ok ho avuto tanto della vita sto avendo tuttora tanto ho raggiunto il massimo del successo che si potesse raggiungere in italia ho fatto tutto sanremo festival bar abbiamo vinto premi abbiamo vinto dischi di platino abbiamo fatto tutto abbiamo conosciuto gente in tutta italia meraviglioso ora per me è il momento di dare ora per me è il momento di dare agli altri senza alcuna invidia senza alcuna gelosia perché ripeto ho avuto tutto non mi manca niente quindi perché non dare a ragazzi giovani la possibilità di fare musica insieme a me di fare delle bellissime canzoni perché poi tutto si traduce in fare canzoni in regalare emozione alle persone quello a esorcizzare cose tirare fuori tante bellissime cose quindi io voglio fare quello sto bene così sono sono felicissimo di quello che sto facendo è bello quindi puoi chiudere cosa ci doveva aspettare quindi dopo questo singolo ci dobbiamo aspettare un altro singolo dobbiamo aspettare un altro singolo che non dirò quando esce ma preparatevi perché perché sto ci sto lavorando con un bel concept dietro e quindi sto sto lavorando nel contempo sto facendo tante date con i gemelli diversi e sto lavorando anche con loro quindi con il contemma appunto per gemelli diversi uscirà presto un singolo anche di gemelli diversi prima dell'estate e quindi c'è tanta roba c'è tanta carne al fuoco farò tanti tanti concerti tanta promozione con i gemelli cercherò di fare anche promozione per il per il mio singolo intanto chiedo a tutti i vostri ascoltatori se hanno voglia di andare ad ascoltare fino in cima su piattaforma live su spotify di guardare il video perché tu l'hai visto sai che sai che ne vale la pena guardarlo e basta e vi ring scusate un attimo mi parte il telefono telefonate e tanti e tanti ringraziamenti a voi per avermi dato questo spazio per appunto per aver parlato e sono molto felice di averlo fatto ma grazie grazie a te è stato un grande onore quindi non vediamo l'ora di scoprire questi nuovi progetti sicuramente consiglio di ascoltare questo brano e di vedere videoclip perché come hai detto tu ne vale la pena e poi non vediamo l'ora di vederti live quest'estate assolutamente sicuramente vi vedrete con i gemelli perché prima di iniziare i live per il mio progetto ce ne passerò un po quindi verrò con i gemelli live spero di essere ancora dalle vostre parti da san michele ci siamo stati ci siamo stati l'anno scorso speriamo di ritornarci o magari nelle zone limitrofe riuscirete a venirci a vedere perché tanto d'estate bello girare quindi assolutamente spero voglio sottolineare strapieno perché comunque riempite ovunque quindi guarda 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 Alessandro è la musica è la musica che riempie noi siamo i messaggeri della nostra musica e la musica ci sopravviverà sempre lei la la cosa più importante quindi speriamo di venire da voi di farvi divertire di divertirci come abbiamo sempre fatti in puglia che è una regione meravigliosa grazie 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 a presto grazie ragazzi a presto ciao